. Siracusa, arrestati gli autori di una rapina a un centro scommesse. Want create city? Find free word prestemes and plugins. . La guardia di finanza di Siracusa, ha arrestato Francesco Fava, e Marco Pugliara, entrambi di Siracusa, per la rapina commessa a Siracusa, il 29 febbraio 2016, a danno del titolare di un centro scommesse. . 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